in cucina oh che carina Emma ma quante belle ragazze che ti seguono ciao Emma chi avrebbe mai detto e di dove sei? di Reggio Emilia ah vicino a Nicolò Sgoldoni a Cavezzo lo vedo sempre ballare lui lo vedo molte volte con una ragazza sempre la stessa non so chi sia quindi non è che mi avvicino hai detto un po' una roba che forse non avresti dovuto dire no no ho mandato le loro foto insieme però non le mai ma dai ma scusami ma che sneak è la sneak mica che ho infamile la mia live scusa no che infamone mandamela anche a me dopo te le mando adesso adesso manda grazie per i beat ah eccoti se Bebbo nuova l'aveva vista dopo la live di questa sera sicuramente la pubblica luna oddio eccoci eccoci Pina però te che ho presa male farle foto alla gente no ma io le ho fatte cioè io non le ho fatte per un motivo chissà che cosa io le ho fatte per mandarla a una mia amica io non provo sentimenti io c'è sì dic saving eccoci dic eccoci eccoci Grazie a tutti